Ragazzi, qua si organizza non per business, per il piacere di stare insieme. Questa organizzazione merita applausi. Questa, Ischitella, Torre Maggiore, Monte Sant'Angelo, Manfredò, tutte le gare che si organizzano nella provincia si organizzano principalmente per passione. E voi dovete essere felici di poter correre in una cornice come questa. Perché, badate, noi abbiamo una provincia bellissima. Siamo qua, è bello. Andiamo a Ischitella, c'è un panorama mozzafiato. Andiamo a Monte, è uguale. Andiamo a Lucera e stiamo nel bello. Cioè, voglio dire, apprezziamo, guardandoci attorno, quanto è bello correre, anziché stare casomai, come capita qualche volta, nelle campagne sperdute. Quindi, voglio dire, siate felici di stare in questa provincia. Gareggiate nella provincia di Forza e date merito a chi veramente ci mette l'animo a organizzare. Non vi voglio dire altro, perché nel bel mezzo di una premiazione bisogna procedere rapidamente ed è giusto che tutti quanti tornino a casa alle famiglie. Vi ringrazio tanto e vi auguro una buona giornata.